in questo bellissimo spaccato di prizzi vi raccontiamo la storia di antonio giovanissimo che da undici anni suona uno strumento da quando avevi undici anni ecco raccontaci come nasce la passione per il clarinetto allora quando avevo iniziato a studiare la musica da quando avevo sette anni che mi sembra piaciuto anche da quando era un po più piccolino quindi magari l'insegnante stesso ha aspettato che iniziassi a saper leggere e scrivere quindi quando avevo sette anni ho iniziato il percorso della musica dopo aver fatto tre anni di cominciare storia della musica quindi il solfeggio le basi nell'età di undici anni ho scelto di ho scelto come strumento il clarinetto e quindi da allora magari all'inizio ho iniziato un percorso nella banda e quindi magari crescendo un po capito ho capito che in un certo senso mi piaceva veramente quello strumento e quindi ho iniziato un percorso diverso vogliamo guardare alla speranza la speranza sono questi ragazzi che portano con sé un'eccellenza lo strumento di un solista che però si inserisce nel contesto di un'orchestra il più diffuso tra gli strumenti come giustamente lui dice d'orchestra suonato con il garbo e l'armonia di un giovane che sicuramente continuerà a far parlare di prizzi riconoscimento al giovane clarinettista Antonio Grasedonio talento emergente del panorama musicale siciliano complimenti grazie 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 Grazie.